Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via il video progetto. Per il progetto di oggi avete bisogno del metro, un ago per cucire, 4 marca punti, l'uncinetto numero 4, l'uncinetto in due e mezzo e un paio di forbici. Per quanto riguarda il filato è una novità per voi, soprattutto lui, che si chiama sirmione. Abbiamo un 62% di poliestre e 38% di cotone. Il filato si presenta come fettuccia, se notate noi abbiamo una fettuccia dove è lavorata abbastanza, come dire, stretta, però non è esagerata, non è un cordino e se notate c'è un lame dentro. Vedete, è un bellissimo, veramente bellissimo filato. E la cosa più bella di questo filato è che è leggerissimo, anche perché noi abbiamo 50 grammi per 230 metri, quindi con 100 grammi noi abbiamo 460 metri, quindi veramente una resa incredibile. E qui lo vedete lavorato. Poi in aggiunta andremo a utilizzare anche il cotone ecologico nella versione nera, lo conoscete bene con le altre versioni. Questo perché ci serve per dare un attimo un po' di carattere, diciamo, anche un distacco di colori alla nostra borsa, perché sarà una borsa. Ora metto via tutto e iniziamo subito a vedere il punto. La borsa che andremo a fare è sviluppata su due pannelli. Un primo pannello formato da due motivi e un secondo uguale identico. Allora, diciamo che io sto utilizzando il filato non troppo spesso, di conseguenza le misure non sono esagerate, però io intanto ve le do. Il mio punto si sviluppa su 29 punti, quindi va da qui ad arrivare qui alla fine. Quindi sono circa 11 centimetri. Allora, siccome è un multiplo veramente alto, io per non esagerare, non fare la borsa troppo grande, ho deciso di metterne su solo due. Dunque, di conseguenza la mia borsa è larga, 21 centimetri, che comunque è da riprendere, ed è alta 18 centimetri, che anche qui è da riprendere, che in seguito lo vedrete. È un modello un po' diverso dal solito, non dico particolare, perché l'ho usata molto spesso questa parola, e direi che è particolare. Adesso io riprendo in mano il filato, andiamo a fare l'inizio del pannello e vedete come si lavora. Poi vi faccio vedere anche come finirlo. Per sviluppare il pannello, di conseguenza, serve uno 60 catenelle, che ho già caricato qui. Quindi sono 29 più 29 più 2, che è il margine. Ok? Quindi è facile. È normale che se voi la volete più grande, o aggiungete un altro motivo, o semplicemente aggiungete più male alte all'inizio, alla fine del pannello, o anche intermedi. Intanto io faccio la catenella numero 61 per iniziare il lavoro. Rientro in colla precedente, vado a fare un giro di punto basso, che mi dà un attimo, un po' di sostegno per quanto riguarda tutto il lavoro. Quindi semplicemente ripassate tutte le catenelle, alla fine della riga ci saranno 60 punti bassi. Finiamo la prima riga che è formata da punti bassi, quindi faccio anche l'ultimo punto, e giro il lavoro. Faccio un punto catenella, e giro il lavoro. Ora iniziamo subito con un punto basso e una catenella. Caricate l'uncinetto e fate subito un altro punto basso. Ora andiamo a fare 5 catenelle. 4 e 5. Caricate, contate 5 punti di base, quindi questo è lavorato, iniziamo da questo, 1, 2, 3, 4 e 5. Andate a fare 6 punti alti consecutivi. Rimango sempre senza filo. Una volta che ci prendete la mano è molto facile, perché dopo avete i punti sottostanti e riuscite a lavorare con loro senza alcun tipo di problema. 4, 5 e 6. Ora andiamo a fare 2 catenelle, 1 e 2, caricate l'uncinetto, saltate i 2 punti di base, 1 e 2, nel terzo punto di base andiamo a fare un punto av formato da una maglia alta, 3 catenelle, e poi carichiamo, rientriamo sempre nello stesso punto e finiamo il punto av formato da una maglia alta. Ora facciamo 2 catenelle, caricate, saltate 1 e 2 e andiamo a fare 6 maglie alte. In pratica noi mano a mano andiamo a creare queste foglie molto belle. Dopodiché non dobbiamo fare altro che fare 5 catenelle e in pratica abbiamo finito il nostro primo motivo. Poi 1, 2, 3, 4 e 5, poi 1, 2, 3, 4 e 5, caricate, andate a fare semplicemente 2 maglie alte. 1 e 2. In pratica, adesso vi faccio vedere, noi siamo qui, qui all'inizio, quindi dobbiamo fare tutta questa parte qui lavorandola semplicemente. Adesso la faccio, poi ci ritroviamo per la terza riga. Finiamo la seconda riga insieme facendo l'ultimo punto alto e giriamo il lavoro. Allora, iniziamo subito con il punto basso e una catenella. Carichiamo e facciamo la maglia alta. I margini, vi faccio vedere, questo margine, questi due maglie alte e quest'ultime due sono tutti uguali, quindi non vi preoccupate, ogni riga inizia e finisce ugualmente. Andiamo a fare 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Caricate l'uncinetto, andiamo a fare una maglia alta qui, sulla prima e lavoriamo un totale di 5, quindi l'ultima, la sesta, quindi lei non la facciamo. Questa è la terza, quarta e quinta. Ora facciamo 2 catenelle e carichiamo l'uncinetto. In questo punto avuto dobbiamo andare a lavorare 5 maglie alte, 2 catenelle, 5 maglie alte, che sono in pratica queste qua, e la base delle prossime due foglie, queste qui. Quindi così iniziamo già a sviluppare loro due. Facciamo quindi 5 maglie alte, poi facciamo 2 catenelle e facciamo sempre lì altre 5 maglie alte. 4 e 5 poi 2 catenelle saltate un punto andate nel prossimo e andate a fare le 5 maglie alte dopodiché dobbiamo finire il tutto con 5 catenelle e facciamo in pratica dopo le 2 maglie alte intermedie. 1, 2, 3, 4 e 5 caricate 1 e 2 maglie alte eccolo qua. Questo adesso lo dobbiamo andare a fare anche qui. Finiamo la terza riga sempre con la costante della maglia alta giriamo e iniziamo con punto basso e catenella. Carichiamo maglia alta iniziamo sempre con altre 5 catenelle dopo le 5 catenelle caricate saltate un punto di base quindi qui dove c'è la maglia alta fate poi una maglia alta una seconda maglia alta e una terza in pratica stiamo andando a chiudere la foglia guardate siamo qui ci mancherà un'altra di riga e l'abbiamo chiusa ora andiamo a fare 2 catenelle di separazione caricate e andiamo a fare 6 maglie alte facciamo 5 punti che ci sono già e nell'ultimo punto ne facciamo 2 quindi aumentiamo quindi 1, 2, 3 4 5 e qua ne facciamo un altro 6 poi 2 catenelle caricate qui vi ricordate che dovete fare subito l'aumento quindi 1 e 2 poi continuate tutti i punti che vi sono rimasti per un totale di 6 come ho detto all'inizio è un punto molto facile una volta che ci si prende la mano è facilissimo da lavorare poi 2 catenelle caricate andate a fare i punti alti saltando il primo punto di conseguenza anche l'ultimo mi sono dimenticata quindi noi abbiamo lavorato i 3 punti alti saltando il primo e l'ultimo quindi solo quello in mezzo questo era il primo andiamo a fare il secondo e il terzo ora 5 catenelle caricate andate a fare le maglie alte e poi dall'altra parte uguale identico finiamo la quarta riga dopodiché vi devo dire una cosa molto importante che così non avete difficoltà per il futuro allora da ora in poi io la prima riga questa di punto basso non la nominerò più anche perché ho finito di spiegare il punto perché ora noi con questa riga quindi in realtà con la quarta di punti alti in pratica siamo qui stiamo rifacendo la prima riga vi faccio vedere anche il perché in pratica partiamo sempre con punto basso e catenella caricate punto alto poi 5 catenelle scusatemi caricate facciamo la maglia alta lasciando il primo punto libero quindi proprio in mezzo poi 2 catenelle e ora andiamo a fare semplicemente 6 punti alti sui punti già esistenti e andremo anche a lavorare il punto av quindi in pratica una volta imparate tutte le righe fino ad arrivare qui tutto il resto è una fotocopia uguale identica 2 catenelle carico e qui vado a fare un punto av formato da una maglia alta 3 catenelle e un'altra maglia alta vi faccio vedere in pratica noi abbiamo iniziato con 2 maglie alte 6 catenelle 6 maglie alte 2 catenelle il punto av e così via ecco noi siamo qui ok di conseguenza mano a mano che ci alziamo andiamo a qui poi qui eccetera andiamo a sviluppare delle nuove foglie quindi non vi dovete e non potete neanche sbagliarvi perché avete 1 2 3 nella quarta riga avete il punto av poi 1 2 3 nella quarta riga notate questo è il punto av adesso vi faccio vedere come andare a ristringerla leggermente e andare anche a pareggiare leggermente sopra dopo aver lavorato il vostro pannello l'altezza decidete voi la larghezza anche quindi io praticamente ho metà di una foglia poi ne ho una due tre quattro cinque intere un'altra metà quindi quasi sei foglie ok ora come notate noi abbiamo queste punte che non vanno bene ok di conseguenza io adesso vado a fare un po' di lavoro di punto basso e maglia alta per andare a pareggiarlo leggermente quindi andremo a fare in due righe in due righe per di più non sarà tutta dritta ma sarà anche un po' ristretta anche perché avrà sarà un modello diciamo diverso qui di solito dovevamo fare due maglie alte come le righe precedenti invece adesso andiamo a fare la modifica andiamo a fare un punto basso e due catenelle o comunque una maglia alta più allungata caricate l'uncinetto quindi non fate le catenelle andate a fare direttamente le maglie alte che mancano uno due e tre come notate la mia borsa va a ristringersi di conseguenza non vado più dritta ma vado leggermente inclinata vado a fare le due catenelle carico e vado a sviluppare un attimo i punti diversamente intanto il primo lo vado a fare un punto alto il secondo anche poi abbiamo due messe maglie alte una e due e poi abbiamo semplicemente dei punti bassi quindi uno che è questo qua vi ricordate che sono cinque dopo di che andiamo a fare un altro in mezzo e un altro dall'altra parte poi vado a fare un punto basso qui carico vado a fare la mesa maglia alta la mesa maglia alta anche qua poi una maglia alta un'altra un'altra e faccio le catenelle due qui vado dritto quindi qua non si deve diminuire si lavorano normalmente come ho detto prima i punti intermedi si rispettano di conseguenza vado a fare anche le cinque catenelle e ora vado a fare l'altro punto di qua andrò a fare cinque catenelle tre maglie alte poi vado piano piano a fare due maglie alte due mesi maglie alte due punti bassi uno qua in mezzo e così via come notate è un po' meno a punta con la prossima riga sarà ancora più dritta finisco questa riga insieme a voi vi ricordate che qui abbiamo fatto semplicemente una maglia alta ok anche qua basta che caricate l'uncinetto e andate sull'ultimo punto entrate e andate a fare una maglia alta vedete che è già un po' più ristretto adesso con questa ultima riga andiamo a sistemare un po' tutto sono comunque molto meno a punta entriamo con un punto basso e due catenelle facciamo una maglia alta qui sulla terza sul terzo punto fatto ok perché anche quello diciamo tra virgolette è un po' più basso poi andiamo a fare due catenelle facciamo adesso una mesa maglia alta una seconda mesa maglia alta e ora andiamo a fare semplicemente dei punti bassi tutti quelli che avete perché risulterà molto molto ma molto più dritta fate un pannello fate anche il secondo ci ritroviamo dove li andiamo a unire non dovete tagliare il filo come notate perché andiamo a riprendere il tutto con una riga di punto basso dopodiché vi faccio vedere come andiamo a lavorare i margini diciamo i laterali ora fate un punto catenella entrate nel lavoro e fate due punti bassi per ogni riga così non ci sono degli errori basta che entrate uno e due e avete fatto in pratica due punti bassi per riga quando arrivate qui in fondo ci sono già le catenelle predisposte perché abbiamo lavorato con i punti bassi di conseguenza è facile riprenderli ci ritroviamo quando faccio tutto il giro e arrivo da questa parte qui dopo aver ripreso la riga di punti bassi dovete mettere un marca punti a 5 punti distanza e uno a 10 quindi da tutte e due le parti ora vi spiego il perché riprendiamo il nostro lavoro perché questo pannello l'avevo già fatto ma io non vado ad utilizzare i marca punti perché vi voglio far vedere per bene il lavoro intanto finita la riga di punto basso quindi tutto attorno tutto attorno dovete girare il lavoro e iniziere a fare per i primi 5 punti bassi ne facciamo semplicemente 5 punti bassi 3 4 e 5 poi abbiamo 5 mesi magliate quindi caricate l'uncinetto entrate e scaricate subito caricate e così via questo è il terzo quarto e quinto ora caricate l'uncinetto e andate a fare tutto attorno delle maglie alte questo fino a dove vi dovete fermare 10 punti prima 5 li fate con la mesa maglia alta e 5 con i punti bassi e il risultato è questo vedete quindi qui abbiamo i punti bassi qui le mesi maglie alte qui le maglie alte e dovete fare due righe dopo di che li andiamo a unire insieme semplicemente facendo una cucitura a punto basso che sarà sicuramente interna ci ritroviamo quando vado a fare la cucitura dopo aver preparato entrambi i laterali mettete la parte bella io scelgo che sia questa e da questa parte questa una davanti all'altra e andiamo a fare la cucitura semplicemente a punto basso quindi entro in una entro anche nell'altra e vado a fare un punto catenella intanto mi porto avanti anche il capietto che così faccio un lavoro in meno dopo faccio un punto catenella rientro e vado a fare un punto basso vado nel prossimo vado a fare un altro punto basso la cucitura da fare la decidete voi potete farla con l'ago potete farla con le costine decidete voi io scelgo di utilizzare il punto intero perché tutto sommato questa fettuccia è una fettuccia di abbigliamento una fettuccia molto sottile resistente assolutamente però è comunque un filato per abbigliamento io qua faccio una borsa ok che non è molto grande in conseguenza neanche il peso da mettere dentro non è tanto ma è sempre una fettuccia di abbigliamento ora bisogna fare la cucitura vi faccio vedere andate qua arrivate qui in fondo fate tutto il fondo e tornate su quando arriviamo qua ci ritroviamo per fare i manici come manici avete necessità di lavorare questo tubolare dopo vi faccio vedere come si fa e ne dovete fare due le mie in realtà le ho fatte leggermente lunghe sono lunghe un metro e dieci e devo dire che sono un po' troppo lunghe magari anche sui 50 centimetri sarebbero state perfette ora vi faccio vedere come sono andata a crearla poi continuiamo nell'applicarla alla borsa di conseguenza vi regolate voi in base a quello che avete necessità a gestirvi meglio per bene ora fate un nodino poi andiamo a fare 5 catenelle 4 e 5 ci chiudiamo con la prima con la maglia bassissima punto catenella rientriamo lì facciamo un punto basso nel prossimo un altro punto basso nel prossimo un altro e così via dopo di che andremo a lavorare a spirale adesso io col nero non so se riuscite a vederli però dovete lavorare tutte le catenelle intanto 1 2 3 4 quinto e dopo andate a lavorare il punto in pieno semplicemente andate senza chiudere sempre sempre a lavorare il punto in pieno e fate tantissimi punti bassi fino ad arrivare alla lunghezza che desiderate quindi questa non viene più chiusa è molto molto facile risulta anche molto elastica ecco perché vi dico di non esagerare con le misure come ho fatto io ed è anche molto molto bella perché il nero risalta tantissimo il filatto sirmione quindi gli da quella lucentezza naturale che ce la zappero e ancora più risplende insomma risplende ancora di più direi che vi ho fatto vedere come si fa quindi non avete difficoltà voi lavorate due lunghe circa 50 cm se avete la stessa misura della mia borsa altrimenti aspettate un attimo che vi spiego come viene applicata eccolo qui un manico applicato alla borsa come notate l'ho cucito all'interno però sul margine quindi il secondo sarà qui quindi noi avremo la parte intermedia che si deve vedere i laterali che si vedono il bello di questa borsa non è adesso perché è stesa ma quando verrà riempita cercherò di mettere una stoffa un po' scura così si vede meglio il manico è leggermente lungo come ho detto magari se facevo circa 20 cm in meno sarebbe stato più corto quindi era da indossare a mano però anche così mi piace tanto perché si può indossare la spalla per quanto riguarda il sopra qui potete riprenderla e far sì che sia tutta tonda oppure la lasciate un po' così che è un po' più particolare un po' più diversa magari ci mettete solo semplicemente dei bottoni magnetici per chiuderla qui decidete voi io la lascerò semplicemente lavorata direttamente col punto quindi non la vado a riprendere ora andiamo insieme a cucire anche il secondo manico così capite come ho fatto ma di iniziare dobbiamo unire i capietti cioè dobbiamo far sì che diventi tutt'uno allora lo mettiamo così da questa parte e cerchiamo di cucirli essendo che c'è il nero in mezzo e il caramello perché il color caramello non dovete essere precisa adesso nella cucitura perché comunque non si vede sembra un tutt'uno basta che comunque andate tutto intorno a cucirla per bene eccolo qua ho complicato proprio il nodino non riuscivo a passare con l'ago poi dopo dovete fare un bel nodino e bloccare il tutto vedete tagliate il filo e andiamo a cucirlare la borsa appoggiate la borsa sul piano di lavoro e appoggiamo anche il manico ora io ho già messo su il filo nell'ago e deve essere abbastanza lungo cercate di farlo tipo su metro metro e mezzo cercate di non fare i nodini come me cosa che ho appena fatto e iniziamo da un angolo quindi possiamo iniziare direttamente da qui allora qui andiamo a fare un punto catenella qui ho fatto il nodino quindi basta che entro con l'ago e ho bloccato il tutto esco dall'altra parte ora la cucitura si fa all'interno quindi voi avete il manico tra virgolette che diventa manico all'esterno e la cucitura all'interno dovete semplicemente tenerlo dritto il più possibile che segua la borsa che non si è girata su se stesso e noi iniziamo a fare la cucitura piano piano io ho fatto delle cuciture di questo genere ho saltato due punti bassi e sono rientrata in quello precedente di conseguenza i punti sarebbero stati alla stessa altezza di conseguenza anche il peso nella borsa sarebbe stato distribuito bene quindi notate entro e spunto qua prendendo però dovete prendere c'è entrare nel lavoro entrate proprio nel nel manico e spuntate dopo non un punto ma due guardate non uno non questo ma due tirate entrate entrate in quello precedente e spuntate di là allora questo è da fare ve lo faccio vedere qui è da fare quindi questa cucitura è da fare da dappertutto quindi sul lato sul fondo e tornate qui su proprio sulla riga di punti bassi così nascondete anche magari ci sono dei cappietti o delle cose che non vanno bene vedete che si nasconde cioè se tirate non si vede però la vedete dall'interno cioè vedete che è cucita sui punti bassi io adesso finisco questa cucitura ci ritroviamo dove faccio le foto e comunque vi faccio vedere l'impressione che ho alla fine del progetto eccola qui finita la mia borsa sono molto 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 soddisfatta perché è veramente bellissima magari l'unica cosa avere leggermente più corti i manici sarebbe stato l'ideale anche perché è una borsina che si può indossare sia a mano che a spalla non la fodero i bottoni non li ho ancora messi quindi dopo ognuna di voi deciderà al meglio su come portarla le ultime borse anche nella moda in generale sono tutte senza fodera di conseguenza le ho lasciate senza questa è la parte sotto e questo è l'altro laterale la parte qui dei laterali potete anche abbondare di conseguenza farli ancora più larghi cioè non limitarvi a quattro righe ma farne molto di più sicuramente sarà un po' più larga anche sopra però con il fatto che voi mettete i bottoni e il materiale è talmente morbido si chiude che è una meraviglia mi piace veramente tanto io vi ringrazio per l'attenzione noi ci vediamo al prossimo video progetto intanto fatemi sapere cosa pensate di questa borsa a me piace tanto veramente tanto